Sul campo Stefano Fiorentini appena battezzato si gioca la prima partitella fra giovani attori e vecchie glorie dello sport. Ad Alemanno ha affidato il calcio iniziale, poi in campo le due squadre, ancora nel ricordo della grande coppia. Gli ex calciatori nel nome di Sandra Mondaini, gli attori in quello di Raimondo Vionelli. Ma guarda, ho un ricordo proprio che mi trovi tra l'altro a questi colori. Lui era un tifosissimo dell'Inter e me lo ricordo l'ultima volta che io lo vidi fu a un derby del cuore a Milano. Adesso non mi ricordo la data, però insomma mi colpì nuovamente, anche in un'occasione così leggera, settori dove ci sono ancora dei principi sani. Quindi dico a questi ragazzi, tra l'altro molto numerosi e presenti, di rimanere affezionati a qualsiasi tipo di sport, ma soprattutto all'identità sportiva. Quindi alle regole di rispetto nell'avversario e tutto ciò che comporta lo sport. Che Raimondo Vionello non era solo un grande attore, un grande umorista, ma era anche un grandissimo sportivo. Dovrebbe mai venire a mancare in un rapporto di questo genere, altrimenti usciamo fuori dai canoni che sono quelli, appunto come dicevo, del rispetto, del rapporto.